Ancora nulla di fatto dal vertice di ieri pomeriggio tra il governatore delle Marche Spacca e i partiti di maggioranza. Anche se tutti tendono a minimizzare è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra i segretari e il presidente che vuole a tutti i costi portare il numero degli assessori del suo esecutivo a sei per tagliare i costi della politica e avere una migliore agibilità in quest'ultimo scorcio di legislatura. I più probabili destinatari del taglio sono l'assessore esterno Luigi Viventi e Marco Lucchetti. Al termine dell'incontro i partiti di maggioranza hanno diffuso una nota in cui auspicano che la discussione in corso possa concludersi rapidamente con un segnale inequivocabile di stabilità e di certezza del lavoro della Giunta e del Consiglio. Di fronte all'esigenza imposta dalla crisi economica e sociale che nelle Marche assunto dimensioni molto gravi non è possibile sospendere l'azione amministrativa e legislativa dal possibile e necessario contrasto attivabile. Nel prossimo anno dovremo tagliare 53 milioni di euro dal bilancio preventivo e fare i conti con 200 milioni di tagli agli enti locali. Ci sono bisogni crescenti e risorse decrescenti. Considerato che non riusciremo a dare risposte a tutti, le forze politiche vogliono condividere con il presidente quali priorità soddisfare e quali trascurare. La Giunta regionale è stata rinviata lunedì mentre l'incontro tra il presidente Spacca e i partiti della maggioranza è stato aggiornato a sabato pomeriggio.